Se Sturno viene definita la piccola Svizzera un motivo ci sarà, basta farsi un giro in paese per trovare la risposta. Ordine, pulizia, natura e sport primeggiano nel piccolo comune Irpino, dove di tutela ambientale si parla ogni giorno, a cominciare dai banchi delle scuole. Ma non si tratta di sola teoria, c'è tantissima pratica che vede coinvolti i giovani del servizio civile e ovviamente l'amministrazione comunale, che è quotidianamente impegnata a preservare ambiente e decoro urbano. Ieri il sindaco Vito Di Leo ha presentato la costituzione del coordinamento Irpino dell'Associazione di tutela ambientale e comune diritto e ambiente, EDA. Sturno è un paesino piccolino, è caratterizzato come la piccola Svizzera proprio per il suo ordine di lizio, il suo ordine per quanto riguarda tutte le aree verdi, per quanto riguarda anche raccolta differenziata e quant'altro. Per cui hanno voluto che fosse Sturno il primo paese per cominciare una politica più attiva, più attenta verso questa problematica. Siamo molto attenti, abbiamo fatto anche un progetto di servizio civile con quattro giovani, sono tre anni che facciamo questo progetto. L'ultimo è stato finanziato di recente, già li abbiamo presi dal 25 maggio, che girano il territorio e laddove c'è qualche rifiuto lasciato lo raccogliamo. Questo significa appunto salvaguardare le falde acquifere, significa salvaguardare l'ambiente. I nostri giovani sono molto attenti, evidentemente sono le persone più anziane, un poco più riottose, sono quelle che lasciano qualche rifiuto da qualche parte, l'abbiamo anche beccati, li abbiamo richiamati all'ordine. Ma i giovani sono molto più attenti, ma la scuola ha un ruolo importantissimo e noi su questo contiamo. Grazie. Grazie.